L'ex caserma di Banne è tornata ad attualità in questi giorni per essere presa in considerazione come un possibile hotspot per collocare i migranti in arrivo sul territorio provinciale. Hotspot finalizzata ad accoglienza e svolgimento delle pratiche burocratiche. Il giornalista Emilio Ripari e la fotografa Giada Genzo, che assieme alla giornalista Micol Brusaferro da anni si occupano di reportage in luoghi dismessi con la loro rubrica Trieste abbandonata, ci descrivono il luogo per come si presenta oggi. Già era in condizioni decisamente precarie in precedenza, poi veramente sono un insieme di strutture veramente enormi, sono 250.000 metri quadri per cui lo spazio è veramente tantissimo. Era già parecchio danneggiata in tantissimi punti, vediamo però che a quanto pare passaggi e intemperie hanno ulteriormente peggiorato una situazione che già era molto precaria. Completo abbandono, strutture pericolanti e a rischio crollo, intonaci staccati, vetri rotti, rifiuti sparsi in giro, così come altro materiale buttato qua e là. La parvenza è quella che gli edifici ad oggi non siano agibili per ospitare persone. Si passa da alcune strutture che hanno una parvenza di solidità, almeno a livello strutturale, e ad altre come anche questa che però è nascosta dalla vegetazione che rischia di collassare su se stessa da un momento all'altro. Per cui riqualificare questa zona e rimetterla in sicurezza, a mio modesto parere, necessiterebbe un intervento veramente massiccio. Il terreno dal 1800 era di famiglie private, poi dopo la prima guerra mondiale i militari l'hanno utilizzato per il deposito delle truppe, eccetera, per poi farlo diventare appena nel 1930 una caserma costruendo poi edifici, eccetera. Purtroppo poi con la fine della leva obbligatoria, come tutte le altre caserme, è andata in disuso. Nel 2013, se non sbaglio, c'è stato anche un incendio che ha indicato una parte strutturale di un edificio della caserma e poi ora, verso ancora in queste condizioni, sempre peggiori. Oltre alle palazzine Spic, il gigantesco spazio è esterno. Ormai la natura si è riappropriata di quest'area, crescendo in maniera incontrollata. Proprio al di fuori però si potrebbe ipotizzare l'allestimento di strutture temporanee, container, tensostrutture o altro, che possono fungere da hot spot per i migranti. L'unica effettiva possibilità sarebbe quella di utilizzare il piazzale che è enorme comunque interno alla caserma Montecimone. Dovrebbe essere sistemato anche quello e bonificato pesantemente, però se vogliamo trovare un minimo di margine, quello potrebbe essere l'unico spazio effettivamente utilizzabile.